ciao a tutti e benvenuti in questa nuova modalità in questo nuovo formato video di recensione degli inchiostri bentornati sul canale oggi doveroso ringraziamento va agli amici della stilografica in corso buenos aires a milano bottega storica che ha donato al canale questa bellissima lami vista l'inchiostro che abbiamo oggi in esame e un set di pennini lami di ricambio per la lami vista in modo da potervi far osservare come si comporta l'inchiostro nelle varie gradazioni di tratto bene l'inchiostro in questione e sorpresa delle sorprese il parafernalia caramel come potete notare qui ho un piccolo tagliacarte e lo userò per illustrarvi le varie parti del dei test che ho fatto con pennino extra fine devo dire molto ben impostato il flusso è decisamente intenso e costante meno ben impostato il pennino fine credo che dovrò lavorarci un po probabilmente irebbe sono un po attaccati in punta tant'è che il flusso non è generoso poco male non è la prima volta che mi capita col pennino me non ho avuto lo stesso problema con tutti gli altri le altre gradazioni per cui il pennino medio inizia ad avere un gradazione una intensità diciamo della dell'inchiostro più più satura questo è il brod poi l'1.1 che è il primo dei pennini italici calligrafici detti della lami poi 1.5 e a finire l'1.9 la citazione che state osservando è di tommaso campanella compositore poeta filosofo italiano inchiostro italiano citazione italiana d'ora in avanti ho in mente di ripercorrere quelle che sono le caratteristiche di un inchiostro anche in termini di citazione bene alcune votazioni che ho dato all'inchiostro confezione 8 su 10 perché prende 8 e non prende 10 su 10 presto detto l'inchiostro viene dato in questa confezione di plastica trasparente che sebbene possa essere un buon contenitore da destinarsi a puntine di disegno graffette qualcosa che volete tenere bene in vista colorato piacevole non va tanto bene per l'immagazzinamento degli inchiostri perché perché comunque non protegge dai raggi solari la vostra boccetta quindi qualora ci sia un principio di muffa tende a proliferare di più per fotosintesi perché comunque i raggi del sole penetrano e alimentano la muffa per cui vi sconsiglio di mantenere a meno che non sia un'ulteriore protezione dagli urti questo sì sicuramente un po lo protegge è rigida ai lati però non lo protegge dai raggi solari quindi se lo lasciate qui dentro comunque tenetelo al riparo dai raggi del sole per questo prende un 8 su 10 e non un 10 su 10 vuoto comunque buono perché perché scusate portato riposizione un po perché comunque questa boccetta non è la boccetta pelican e ve la mostro subito così ci intendiamo questa è una boccetta del 4001 brilliant red e come potete notare sotto la boccetta è dentata in tutte in tutti i lati quella del parafernalia è dentata soltanto ai lati e non al lato superiore inferiore per cui in questo non riporta scritte germany pur essendo di 30 ml anche la boccetta della pelican 4001 le dimensioni non sono identiche la parafernalia è leggermente meno ingombrante perché perché lo spessore che separa l'inchiostro dall'esterno del vetro è un pelino inferiore quindi stesso contenuto di inchiostro 30 ml in entrambi i casi confezione meno ingombrante per la parafernalia però comunque la comuna come modalità di realizzazione la comodità di avere un'imboccatura larga quindi adatta a penne dalla sezione molto importante dal diametro importante la rende diciamo comoda per raccogliere le ultime gocce d'inchiostro perché voi la potete coricare rimane stabile e potete attingere all'ultima parte del vostro inchiostro quindi comunque prende un buon voto il flusso l'ho testato qui ve lo ingrandisco farò spesso avanti indietro vi chiedo scusa però credo sia necessario farvi vedere nel dettaglio il flusso comunque è ben impostato ben lubrificato perché comunque non mi ha dato problemi quindi prende un 8 in entrambi i casi la lamivista non è un idrante non è una pelican m800 però comunque sia rilascia un discreto flusso di inchiostro comunque ben lubrificato non mi ha dato problemi solo in questo caso con un pennino f ho avuto qualche problemino devo studiarmelo meglio per le prossime recensioni farò in modo tale da sistemarlo le sfumature di questo inchiostro le state apprezzando dall'inizio del commento la parola stessa sfumature ironia della sorte è passata a tre diverse gradazioni da un rossiccio della s in finale in coda fino a una progressione più aranciata per poi riacquistare tono verso il terracotta quindi in una sola parola io ho avuto una due tre quattro cinque non ancora un terracotta nella u veramente saturo sei sfumature differenti quindi per me si merita un nove e mezzo dove 10 per me l'ha preso lo sbre brown che ha tutt'altro costo non è italiano è un inchiostro estero lo spiumaggio lo spiumaggio per me ha preso un 10 su 10 ma perché io qui ho scritto con un pennino 1.9 provate a trovare lo spiumaggio di questo inchiostro io non ce lo vedo non so se la telecamera ha la risoluzione per potervi far notare nei dettagli ma qui sinceramente il tratto è veramente netto nonostante scusate la mia grafia ho scritto con questo inizialmente era un test live che avevo fatto però il video era ingestibilmente lungo cioè veramente troppo lungo vi avrei fatto addormentare quindi preferisco commentare alla fine il test quindi a livello di spiumaggio sia su carta rodia che su carta zeichen block carta di bassa qualità riscontra seppur di 100 grammi comunque vi garantisco che la qualità e il costo sono veramente ridotti come potete vedere non spiuma o spiuma veramente poco anche su questa carta di qualità veramente bassa quindi su carta da stampante forse la resa è anche migliore della zeichen block morale della favola lo spiumaggio è talmente impercettibile nelle altre carte che per me un 10 su 10 se li prende tutti saturazione della tinta considerando le sfumature mi sembra un buon compromesso perché un colore comunque terracotta caramello ben deciso quindi non me la sono sentita di dargli meno di 9 l'attraversamento prende 10 su 10 perché perché in tutta la pagina le uniche volte in cui ho visto un attraversamento erano con il tardif test ci torniamo con le passate che ho fatto e con lo swapping cioè ve li spiego dopo però comunque tendenzialmente qui dove ho scritto ve lo ingrandisco con pennino calligrafico italico della lami guardate un po vedete attraversamento no al più vedete un effetto fantasma infatti si chiama ghosting capite che c'è scritto qualcosa dall'altro lato ma non ha attraversato la superficie di carta del blocco rodia quindi attraversamento 10 su 10 se dovessi vederlo su carta seiken block ve la riprendo anche su carta seiken block che è una carta veramente di qualità non buona laddove c'erano hiroshizuku yamabudo lami petrol rustic brown della diamine messo a paragone hanno attraversato tutti lui soltanto in pochissimi punti quindi veramente un attraversamento buono poi il rapporto qualità prezzo beh per l'analisi che è stata fatta fino a questo momento la qualità è decisamente buona la resa è buona un calcolo veloce della boccetta da 30 ml a 6 euro e 50 mi dà 22 centesimi di euro al millilitro comunque lo colloca in una fascia medio bassa dal punto di vista del costo per cui un rapporto per me di 9 a 10 qualità prezzo l'odore è assente non presenta un particolare odore il che significa che non vi dovete aspettare strane componenti per dare diciamo in termini di oli essenziali o altro che magari potrebbero danneggiare la vostra penna all'interno della boccetta non c'è niente di tutto ciò tempi di asciugatura con un pennino m molto bassi siamo sui 5 secondi la prova dell'acqua non ha dato buoni risultati ma d'altronde questo inchiostro non è venduto come water resistant non è un inchiostro resistente all'acqua infatti come potete notare dopo averlo lasciato agire tre gocce che si erano tra loro unite le avevo lasciate agire per tre minuti anche quattro direi quattro dopodiché ho usato un cotton fioc per tamponare l'acqua e rimuoverla dal foglio quindi si vede ancora parte della griglia che avevo disegnato però per la maggior parte è andata via quindi per me è una leggera insufficienza 5 su 10 poi dopo questo ho analizzato la viscosità dell'inchiostro in rapporto all'acqua ha una viscosità molto bassa e vicino al comportamento dell'acqua come ho misurato la viscosità di questo inchiostro in una maniera molto empirica è un test che ho visto fare ad altri si trova online vi lascio il link nella descrizione ho fatto diverse misure per avere un risultato quanto più possibile vicino alla realtà e in buona sostanza se l'acqua è 1 questo inchiostro è 1 e 24 quindi in termini di tempo o velocità a percorrere 30 centimetri su un piano avente sempre la stessa inclinazione l'inchiostro rivela di essere poco viscoso poi sono passato a passato a fare le passate perdonate l'assonanza in particolare con un pennino 1.9 ho fatto una passata in questa posizione due passate a distanza di un minuto lasciando asciugare tre passate in ultimo questo che vedete non è spiumaggio sono io che con il pennino mi sono mosso lateralmente non ha mai spiumato neanche con tre strati differenti dello stesso inchiostro poi con un misuratore digitale ho misurato il ph di questo inchiostro e per le misure che sono riuscito a fare per la media delle misure che sono riuscito a fare ho ottenuto un ph di 8 e 89 quindi un inchiostro fondamentalmente basico non acido state attenti naturalmente con altri inchiostri che magari sono più acidi a mescolarlo perché vi dà sicuramente un sedimento quindi se cambiate inchiostro da questo a uno più acido ricordatevi di pulire la penna o viceversa uguale vi dà sempre sedimento peggio ancora se vi mettete a fare delle prove per ottenere delle tinte vostre personalizzate sappiate che non dovreste mescolare un inchiostro basico con uno acido ho fatto una prova dell'evidenziatore lasciando asciugare la scritta evidenziatore per circa 45 ore poi ho passato l'evidenziatore e un po ha trascinato la tinta tant'è che prende un discreto e mezzo sette cinque sette e mezzo infatti come potete notare si è trascinato un po la scritta poi ho fatto l'anatomia dell'inchiostro immergendo un foglio di carta assorbente con un tratteggio una linea a questa altezza qui l'ho immerso in un bicchiere d'acqua che era colmo fino a questo livello quindi per imbibizione e capillarità l'acqua si è trascinata la scritta diciamo il tratto orizzontale che avevo fatto con l'inchiostro verso l'alto scomponendolo nelle sue componenti cromatiche quindi andiamo da un rosa tenue fino a un rosso intenso vivido e poi si è separato un verdino un verde abbastanza diciamo intenso comunque quindi questo inchiostro se non fosse per una tinta abbastanza satura che quella del marrone vi lascerebbe vedere un riflesso uno sheen si dice in inglese verde vi rivelerebbe il verde se non fosse che la base del colore è questa tinta qua poi sono passato a fare un tardif test con questo tagliacarte quindi ho prelevato una discreta quantità dell'inchiostro l'ho spalmata sulla pagina per farvi vedere tutte le tonalità che è in grado di assumere da un colore un po più tenue non proprio tutte perché in realtà trascinando un po di più forse qui si vede che tende un po arancione in determinate situazioni fino a un terracotta intenso in ultima analisi ho fornito un complementare candidato per fare un contrasto su una pagina qualora abbiate bisogno di mettere in risalto determinati elementi del vostro discorso potreste usare un parafernalia turquoise che è un prese complementare che dà un buon contrasto con il colore che stiamo esaminando alla fine in ultima analisi ho deciso di confrontarlo con tinte che fossero quanto più possibile vicine a quella in esame e quindi se questo con con una cannuccia di vetro per cui una saturazione maggiore rispetto a quella del rilascio di una stilografica comunque questo è il parafernalia caramel che come potete vedere assume una tinta reale solo in esaurimento dell'inchiostro in questa parte qua sulla cannuccia questo è l'acca masbre brown che dall'inizio alla fine comunque conserva un marrone aranciato ricco di sfumature e infatti questo prenderebbe 10 questo prende il 9 e mezzo in termini di sfumature questo è il diamine ancient copper quindi parliamo di un rame antico e si vede infatti perché è un marrone che tende al rossiccio questo è il waterman absolute brown quindi comunque si avvicina un po alla parte finale del nostro inchiostro è meno tenue meno carico questo è il diamine chocolate brown che è la tinta senza dubbio più vicina diciamo la parte più satura del nostro inchiostro che conserva comunque anche in esaurimento la tinta per cui è un colore dal mio punto di vista una via di mezzo tra l'acca masbre brown e il diamine chocolate brown in media stat virtus per cui sicuramente per chi sceglie un color caramello questa è l'opzione da intraprendere vuoto finale 8 su 10 dal mio punto di vista una media piuttosto onesta tra tutti i valori che avete ottenuto qui qui aveva un'insufficienza sulla prova d'acqua che ho comunque conservato nella media finale sebbene questo inchiostro non abbia la pretesa di essere resistente all'acqua quindi grazie per avermi seguito in questa disamina del dell'inchiostro trovate una scansione in alta risoluzione al link che vi fornirò nella descrizione così come un video che vi mostra come ho empiricamente misurato la viscosità dal mio punto di vista questo è un test migliorabile purtroppo con un viscosimetro da 500 euro sinceramente io coi soldi preferisco spenderli per una buona stilografica per il momento è tutto ringrazio nuovamente gli amici della stilografica di milano che mi hanno regalato inchiostro penna e set di pennini per cui grazie per l'impulso che state dando al canale la vostra fiducia e grazie a voi per aver visto questo video al prossimo appuntamento stilograficamente parlando ciao a tutti